Ciao Polpetta! Ciao Polpetta! Ciao amici, benvenuti in un nuovo video e bentornati sul mio canale! Io sono Carlotta e il video di oggi è interamente dedicato agli sconti che ci sono in questo periodo e anche quelli che partiranno, se non sbaglio, i primi di ottobre. Sono abbastanza in tempo per tutti quanti, tranne per una casa editrice, che ora vi dirò. Allora, per tutti i titoli avete tempo fino comunque a ottobre, quello per cui avete meno tempo è tipo il 3 ottobre. Ma uno di questi, che ovviamente vi dirò strada facendo, ha scadenza il 26 settembre, quindi due giorni dopo l'uscita di questo video. Per cui se siete interessati, correte praticamente su Amazon a ordinarli. Allora, ho deciso di fare un video con tutti gli sconti che ci sono in questo periodo, perché uno, cioè non volevo fare troppi video, e poi sarebbero venuti corti, perché per alcune case editrici magari ho solamente due titoli. Ho pensato a voi, nel senso che non dovete sorbirvi tutto il video, se non vi interessano determinate case editrici, ma sia sotto nella barra che sotto nell'infobox troverete il timing, con ovviamente il titolo, per cui in base alla casa editrice che vi interessa, potete andare a scegliere il punto in cui ne parlo. Prima di incominciare, volevo come al solito ricordarvi alcune cose, perché questa volta c'è qualche novità e soprattutto qualche differenza. Allora, innanzitutto, volevo dirvi che ho aperto una pagina Ko-fi, e un sito che offre un servizio di donazione, per cui voi, se volete sostenermi, potete donarmi anche solo una cifra indicativa di tipo un caffè, infatti il logo è un caffè, che è un euro. Io ho messo il gold, che quando riceverò 20 euro di donazioni, comprerò un libro che sceglieremo insieme nelle stories. In più ci sono anche altre funzioni che mi interessano, come post, dove potrò volendo utilizzarlo come blog. E in più c'è una sezione importantissima che mi aiuta un sacco, che è lo shop. Infatti, forse non tutti di voi lo sanno, io realizzo anche illustrazioni personalizzate, segnalibri, e insomma, qualsiasi cosa di personalizzato che volete fare, realizo un segno anche ad hoc. E quindi ho pensato di aprire appunto questa pagina, su questo sito dove posso raccogliere insieme tutte queste cose qui. Quindi vi invito a dare un'occhiatina appunto al mio profilo Ko-fi, ovviamente non serve che doniate, basta solo andare a dare un'occhiata e seguirmi anche lì. Così anche lì, insomma, se esce un post lo sapete, se aggiungo qualcosa allo shop lo sapete, soprattutto se volete partire per tempo, per Natale, io ve l'ho detto, e quindi ho pensato che fosse una cosa carina. Fatemi sapere cosa ne pensate, e soprattutto se avete già usato questo sito. Altra notizia, questa volta, vista la lunghezza, vista la quantità dei titoli che andrò a citarvi in questo video, ho pensato di non mettervi l'elenco come al solito, ma ho creato una lista apposita su Amazon, dove sono raccolti tutti quanti i titoli, e quindi vi linkerò direttamente la lista qui sotto nell'infobox, così avrete di tutto insieme, e se qualcosa vi interessa, basta che facciate aggiungere il carrello. Ora, detto questo, direi di passare alle solite promesse, ricordo di lasciare un mi piace o un commento, se questo video vi piace, comunque se vi piacciono i miei contenuti, e soprattutto di iscrivervi al canale, e attivare la campanella, perché poi gli perdete i video, soprattutto i video random, perché da questa settimana in poi, così a caso, uscirà un video in più a settimana, non tutte le settimane ovviamente, non so bene quando lo farò uscire, lo farò uscire quando riesco, quindi potrà essere a qualsiasi ora e qualsiasi giorno. Ora, detto questo, direi di iniziare veramente con il video. Un'altra cosa che voglio dirvi, è che tutti i titoli che citerò all'interno di questo video, non sono per forza libri che ho letto, nel senso che ho deciso di farvi una cernita da titoli che io mi sarei comprata se potessi comprarli in questo mese, ma non nel periodo di spendere soldi, quindi non li comprò, ma comprateli voi per me, e spero che appunto vi possa comunque piacere fatto in questo modo, per cui sono titoli che io non ho letto, di cui non ho certezza, però che mi ispirano un sacco. Allora, iniziamo dai Minimum Facts, di questa casa elettrice purtroppo non ho ancora nessun titolo, ma penso di recuperare qualcosina al Salone del Libro, perché sì, big notizia, andrò al Salone del Libro come... blogger, quindi... infatti sono felicissima perché suggerisco che ho due giorni di fiera almeno. Allora, la Minimum Facts è quella, come vi dicevo all'inizio, per cui avete meno tempo per acquistare, perché il video esce oggi, che è il 24 settembre, e gli sconti finiscono il 26, per cui avete poco tempo. Allora, ho selezionato Una cosa divertente che non farò mai più, di David Foster Wallace. Allora, di questo titolo non avevo già sentito parlare da Read Vlog Repeat, che vi lascio qua sopra nelle schede, e mi aveva incuriosito tantissimo. Praticamente non è nient'altro che un reportage, quello che avviene su una crociera extra lusso direzione Caraibi, e ce lo racconta appunto David Foster Wallace con la sua vena tipicamente ironica, quindi ci sarà tanta satira, e soprattutto una rappresentazione abbastanza precisa e appunto ironica della società americana contemporanea. Il secondo titolo che ho selezionato è una biografia, ed è la biografia di David Lynch, Perdersi è meraviglioso, interviste sul cinema. Allora, David Lynch, per chi non lo sapesse, è il regista di Twin Peaks, questa è appunto la prima stagione, devo poi cercare di recuperare le altre, ed è fuori di testa. Cioè, dato che sia una mente di un contorto, di un geniale, che non ho mai visto, e quindi una biografia che va a scavare nella mente di questo genio, direi che non può mancare. soprattutto se vi piace Twin Peaks. Poi, l'ultimo titolo che vi consiglio della Minimum Facts, è che, punto da un po', ma non ho ancora acquistato, ma penso che lo ascolterò su Storytel, è Grande Ironica di Marta Azzura Punta Roni, e ha scritto qualche anno fa questo titolo, che mi ha sempre incuriosito, ma perché in generale mi incuriosisce lei come persona, e racconta la storia di Marta, che si divide un po' tra Parigi e le Marche, che cerca di stare a galla, e praticamente è un romanzo di formazione, scritto con una penna molto virtuosa, lucida e sognante, in fezzognante, Grande Ironica, mi piace già questo aneddoto. Passiamo adesso agli sconti Fazzi, che durano fino al 3 ottobre, quindi avete un pochino di tempo in più. Allora, di Fazzi vi consiglio assolutamente Piranesi, di Susanna Clark, io questo titolo l'ho letto praticamente appena uscito, ci ho girato un intero reading vlog, che vi lascio qua sopra nelle schede, mi è piaciuto molto, è una storia incredibile, incredibile, non spendo altre parole, perché ne ho già parlato in un video intero, l'unica cosa che dovete sapere, è che è un libro che o amate o odiate, cioè secondo me non c'è una via di mezzo, approcciatevi a questo libro con questa consapevolezza. Poi, altro titolo che vi strastra consiglio, che ho iniziato a leggere, non ho ancora finito, però lo puntavo da più di un anno da quando è uscito, è Il mare senza stelle di Erwin Morgenstern. Anche questo, penso che si possa rientrare nella categoria di libri che o amate o odiate, questo è quello che ho sentito dalla recensione. Credo che sia una storia molto misteriosa, non vedo l'ora di addentrarmi, sono arrivata solamente a pagina 40, ma è già successo di tutto, quindi, insomma, con 618 pagine, diciamo che sono molto curiosa di vedere che cosa possa accadere. Quindi questo qua, super consigliato. Altro titolo che vorrei consigliarvi, sempre perché ho finito un attimo sotto, con le saghe familiari, è Piani della leggerezza di Elizabeth Jane Howard, che è la saga dei Casalè. Allora, io questo titolo l'ho preso in scambio, e probabilmente non l'avessi preso in scambio, comunque, l'avrei comprato, perché lo puntavo già da un po', mi piacciono molto le saghe familiari, questa promette di essere una bella, bella saga familiare. Qua sul retro c'è scritto che ricorda anche la Virginia Woolf e i Vandenbrook, quindi direi che le promesse sono ottime. Poi ci sono altri titoli che io purtroppo non ho, ma che vorrei tantissimo. Anima, di Wajidi Mowa, che questo mi incuriosisce molto, perché è una specie di giallo, cioè che poi si va a indrecciare con una vita parallela nella città, in una città di... Non lo so, è una storia super particolare, perché poi vengono anche richiamate la riserva indigene del Quebec, cioè qua si presenta come una sconvolgente odissea contemporanea, un'ardita provocazione letteraria. Capitolo dopo capitolo, il filo della narrazione è ripreso da una successione di mali, a partire dal gatto che racconta la scena iniziale. In un antico bestiario, cani, gatti, topi, serpenti e insetti, di ogni genere si fanno testimoni dell'intera vicenda, immergendo il lettore nella percezione della realtà. L'esolante verità che si delinea è una sola, il cielo non ha visto niente di più bestiale dell'uomo. Allora, a parte che già qui mi avete comprato, e in più la copertina secondo me è fantastica. Non ho in realtà sentito parlare troppo, l'ho visto molto in giro nei gruppi degli scambi, che poi sono una cosa positiva o meno, però non ho letto ancora recensioni e un po' non le voglio leggere, nel senso che mi ispira. Un titolo particolarissimo che mi inclusisce un sacco e sono 500 page. Tra i tre titoli che vorrei recuperare della Fazzi Editore, perché la Fazzi sta facendo uscire cose molto molto belle, è Il Viaggio di Alla. Questo qui lo trovate, se non sbaglio, disponibile su Audible. Grande amica e prima lettrice di Tolkien, quindi direi che già per questo motivo dovremmo comprarlo. Ed è la storia di Alla, che appunto viene abbandonata da suo padre nei boschi e viene poi alcudita dagli orsi e cresciuta dai draghi delle montagne rocciose. Cioè già lì, cioè già per me lì... Io sono venduta, venduta di nuovo. Poi, penultimo titolo, l'usatrice di libri di Daisy Icardi. Interessa molto il protagonista, legga attraverso l'olfatto. Questa cosa mi inclusisce molto. La cosa che però mi ha praticamente convinta a metterlo negli acquisti è il fatto che sia ambientato a Torino. E questa cosa mi piace un sacco. È ambientato in Torino del 1957 e quindi, non lo so, il titolo mi ispira tanto, la trama anche, quindi spero che sia una bella lettura. Ovviamente, se qualcuno di voi acquista e ha letto questi titoli, scrivetemela sotto nei commenti perché sono molto curiosa. Ultimo titolo, che anche questo ho adocchiato da un po', ma perché? Che, cioè, non lo so, io vedo le copertine e mi attirano, sono belle, leggo la trama, mi piace pure la trama, cioè, l'ho comprato. Sto parlando di Augustus, di John Williams. Praticamente, in questo libro, Williams ci racconta quello che è il personaggio di Ottavio Augusto. Ce lo racconta tra lettere e diari, da cui riusciamo a ricostruire i profili dei grandi personaggi del periodo, appunto, dell'idea di marzo. Un mattoncino di 400 pagine che ci racconta di quello che è successo nel 44 a.C. Vi segnalo, comunque, una casa editrice per cui, in questo momento, non ho trovato titoli che mi interessano, ma vi segnalo, comunque, appunto, il fatto che stanno facendo ancora loro degli sconti e sto parlando della terza, che, appunto, gli sconti durano fino al 10 ottobre. Potremmo passare alla Notte Tempo, che è una casa editrice poco conosciuta, secondo me, che però ha delle chicche abbastanza interessanti. Il titolo che mi piacerebbe recuperare per la Notte Tempo è Disobbedienza di Naomi Alderman. La Alderman è la stessa che ha scritto Ragazze Elettriche, che anche quello trovate in sconto, che però io ho iniziato a leggere, ma non so se era il periodo, comunque, non mi è piaciuto, non l'ho neanche finito, per cui, non mi sento di consigliarvelo. Però, so che a tantissime persone è piaciuto, ho letto comunque recensioni positive, io, magari, più avanti vi darò un'altra possibilità, ma in questo momento no. Comunque, sappiate che anche questo titolo aderisce agli sconti. Il titolo comunque che vorrei recuperare io della Alderman è Disobbedienza, titolo che tra l'altro trovate anche su Storytel. Allora, anche questo è un altro commento che mi affascina molto, ovvero, è la storia di Ronit, che fugge dalla sua famiglia e dalla comunità in cui vive, che è una comunità ebraica ortodossa. Quindi lei decide a un certo punto di fuggire a Manhattan e tornerà a Londra solamente per la morte del padre. Ovviamente in questo volume ci verrà raccontato, penso, come Ronit affronta il mondo reale, il mondo non ebraico ortodosso praticamente e quindi di scoperte, di scoperta di se stessa, di formazione. Poi direi di andare avanti e passiamo alla Salda Press. La Salda Press, anche lei, finisce i disconti il 3 ottobre. Allora, della Salda Press vi consiglio principalmente due serie. La prima che vi consiglio è che diciamo che se non avessi tutto i volumi grazie al mio ragazzo penso che inizierei a recuperarli perché la serie tv io non l'ho vista ma di base come storia mi piace e sto parlando di Walking Dead. Allora, se ne sbaglio sono una dozzina di volumi che raccolgono tutta la storia di Walking Dead che adesso è finita. So che i fumetti rispetto alla serie tv non viaggiano proprio in modo parallelo perché in tutto punto la serie tv se ne va dall'altra parte però comunque avevo già iniziato a leggere i primi capitoli mi piacevano un sacco i disegni e mi sta piacendo la storia e quindi avendo a casa tutti quanti i 12 volumi sicuramente lo leggerò e ve lo consiglio molto soprattutto se appunto vi è piaciuta la serie tv. L'altro volume della Salda Press che vi voglio consigliare e che appunto se non sbaglio ho letto i primi volumi è Outcast. Se non sbaglio Outcast sono 8 volumi vi consiglio l'acquisto di quello in copertina flessibile perché comunque è altrettanto bello e costa un pochino meno e ci racconta la storia di Kyle che praticamente vive la sua assistenza segnata da possessioni demoniache qua l'ambito è esorcismo demoni e cose di questo genere molto molto losche anche di questo c'è la serie tv ma non so quanto successo abbia avuto nel senso che ne ho sentito parlare veramente poco io ho visto le prime puntate e poi me lo sono perso onestamente adesso non so in questo momento dove si possa trovare ma mi informerò e ve lo lascerò qua scritto da qualche parte oppure sotto nell'info box però molto molto consigliato mi stava piacendo la storia anche i disegni abbastanza semplici ma comunque efficaci però un'altra casa editrice per cui in questo momento non ho trovato titoli di mio interesse è la Gallucci che appunto farà gli sconti a partire dal primo ottobre fino al primo novembre altra casa editrice che fa sconti è Saggiatore Saggiatore inizia a fare gli sconti dal primo ottobre fino al primo novembre e anche loro credo che avranno gli sconti anche al senso del libro ma non lo so bene allora del Saggiatore oltre alla grandissima Simone de Beauvoir con il secondo sesso che con cui sto ancora cercando di approcciarmi ma ce la faremo ho selezionato tre titoli che mi incuriosiscono allora il primo titolo che vi voglio consigliare è Abbracciare gli alberi di Giuseppe Barbera ed è un saggio sugli alberi su quanto gli alberi abbiano influenzato l'uomo la storia dell'uomo su quanto siano affascinanti di per sé come elementi perché cioè vivono vivono senza bisogno di bocca o altre cose ed è incredibile questa cosa altro titolo che vi consiglio del Saggiatore che mi ha incuriosito appena ho letto il titolo è Metropolis e storie della città la più grande invenzione della specie umana l'autore Ben Wilson ci racconta la città proprio come un essere vivente che nasce cresce e muore e questa cosa mi ha incuriosito tantissimo ovviamente sarà un viaggio attraverso tantissime città come Lisbonne New York Chicago cioè tutte le città del mondo vengono citate per appunto raccontarci quello che è la città che è praticamente la base del mondo in cui viviamo del modo in cui viviamo casino passiamo passiamo adesso alla casa che dice per cui ho deciso di girare questo video ovvero la BAO Publishing allora la BAO come ogni anno ci appunto ci regala gli scontri del 20% e avevo già girato un video interamente appunto dedicato alla BAO che vi lascio cosa fare nelle schede ho cercato ovviamente di mettervi titoli diversi anche perché non ho talmente tante di BAO e più ne ho aggiunti che insomma ovviamente ho avuto girarci tre video interi ma direi di incominciare perché questo video è già durato molto iniziamo da titoli che ho e che ho letto per passare poi a titoli che purtroppo non ho ancora e che vorrei assolutamente recuperare inizio ricordandovi di Zero Calcare ho preso un volume rappresentativo a caso perché di Zero Calcare dovete leggervi tutto cioè qualsiasi cosa ci sia di Zero Calcare voi leggetela tanto qualsiasi cosa leggete di Zero Calcare voi vi ci riconoscerete e soprattutto penserete finalmente c'è qualcuno che ha avuto il coraggio di dirlo ad alta voce perché io non ce l'avevo poi il titolo di cui vi ho già parlato perché non ve l'ho consigliato con gli sconti l'anno scorso perché probabilmente non era ancora uscito ma ve ne ho già parlato in un wrap up che vi metterò qua sopra nelle schede ed è Tu sei il più bel colore del mondo di Golozao questo titolo mi è piaciuto tantissimo i colori li ho amati la storia l'ho amata leggetelo e fatevi un regalo perché questo libro è una coccola poi autore che l'anno scorso purtroppo non mi avevo consigliato perché ho voluto fare un po' una cernita è Daniel Quello Guardati la Beluga Magico che niente fa ridarissimo questa qua è una serie di strisce che trovate anche qualcuno la potete magari trovare anche su Instagram e niente fa ridarissimo e rappresenta appieno secondo me la nostra società infatti quando vado in fiera cerco sempre di per me devo fare i titoli di Daniel Quello io non ho e appunto vorrei recuperare e vi consiglio tantissimo Residenza Arcadia che ne ho sentito parlare benissimo e pare che faccia ridere un sacco perché poi c'è io adoro i vecchietti quindi una storia dove si parla di vecchietti cioè per me è tipo la vita poi altro titolo è Giacomo bevi l'acqua il suono del mondo a memoria questo titolo è ambientato a New York ed è la storia di questo ragazzo che non sente sente ma sente cioè poi vabbè lo capirete leggendolo però è veramente bellissimo l'ambientazione è stupenda ci viene rappresentata una New York alla perfezione con dei colori autunnali che secondo me rendono tantissima giustizia a New York e ve lo consiglio tantissimo di questo titolo anche ve ne ho già parlato in un wrap up mi sembra di averlo mi credo esattamente quando l'ho recuperato è stata una lettura abbastanza devastante parla di vita di morte di accettazione è molto molto duro da accettare ecco secondo me sì però è un bellissimo titolo che vi consiglio molto la cosa che mi è piaciuta è che i disegni soprattutto i colori vanno di pari passo con quello che si sta raccontando nel senso che si alterna c'è una narrazione parallela tra la storia del surf e la storia appunto della nostra protagonista poi passiamo ai titoli che purtroppo non ho ma che assolutamente vorrei recuperare e vi parlo di il principe e la sarta che so essere una bellissima storia a tema LGBT vi racconto quello che c'è scritto dietro un principe con un segreto un'umile sarta con un grande sogno una storia che parla di come si capisce e si accetta chi sia veramente anche quando gli altri potrebbero giudicarti male perché a volte tutto il coraggio che ti serve è nello sguardo di qualcuno che ti vede per come veramente sei io l'ho sentito parlare solamente benissimo anche in modo molto commosso per cui non vedo l'ora di leggerlo poi altro titolo che mi piacerebbe recuperare è nonostante tutto dei giorni la febbre di questo titolo l'ho sentito parlare benissimo ed è la storia d'amore tra questi due protagonisti però non dal principio alla fine come di solito vengono raccontate le storie ma dalla fine al principio per cui è un po' un percorso che facciamo al contrario con i nostri protagonisti da quando sono più anziani a quando sono più giovani poi 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 altro titolo che vorrei recuperare è su un raggio di sole di Tilly Walden di cui in realtà non so tantissimo ma che mi inquisisce tanto e adesso vi leggo la trama così vedete se anche voi può interessare Mia si imbarca su una nave la cui missione è riparare edifici in rovina ovunque nel cosmo Mia ha un segreto è una missione che non osa confessare al resto dell'equipaggio mentre imparare a cavarsi in posto nella stana famiglia in mezzo alla quale si è ritrovata apprendiamo di ciò che le manca e ciò che sta cercando Tilly Walden raccolta una space opera sui generis che esplora i sentimenti umani come se fossero spazi siderali qua c'è lo spazio in modo dello spazio ragazzi è lo spazio poi gli ultimi due titoli allora questo qui è un titolo che ambientato in questa guerra millenaria per salvare l'universo ma poi i disegni mi sono piaciuti subito un sacco ultimissimissimissimo poi chiudiamo il video io ho visto tutta la serie su Netflix e l'ho amata finita l'altro giorno ci sono rimasta malissimo per il finale ma spero che esca in altre stagioni perché non può finire così ed è Ilda e il troll questo che vi cito è il primo volume ma ce ne sono tanti altri e Ilda è bellissimo è tipo un cartone che ho scoperto qualche mese fa e che ho amato subito che vi consiglio tantissimo di recuperare su Netflix ve lo avevo già anche citato in un video se vi piace questo ti piacerà anche questo una roba del genere e quindi ve lo consiglio tantissimo perché Ilda è una coccolina e insegna un sacco di cose anche se pensiamo di non dover imparare più niente di questo genere di cose e invece sì bene amici questo video delirio dove praticamente abbiamo ripercorso insieme la mia wish list che non vedrà mai la luce perché non riuscirò mai a comprare tutti questi titoli fatemi sapere se qualcuno di questi titoli vi ha incuriosito oppure voi ce l'avete l'avete comprato avete intenzione di comprarlo insomma fatemi sapere qua sotto e ovviamente se comprate qualcuno di questi titoli dopo aver visto questo video taggatemi su Instagram così insomma li vedo anche io direi che possiamo salutarci vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se ancora non l'avete fatto di lasciare un piaccio se questo video vi è piaciuto e io ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti